Ok, siamo qui con, dite voi i vostri nomi anche se io li so benissimo e forse anche loro Max Braga Posso far finta di essere qualcun altro? No Claudia Valli Che sono due nail artist famosissimi E quanti sono? Io dico che faccio l'unghiaiola Anche io dico sempre lui No, io dico No, di voi dico le unghiarole Le unghiarole E di lui anche un'unghiaiola? Unghiarolo Mi racconti un po' io so che tu hai anche qualcosa di tuo No, non ho proprio niente di mio, cerco sempre qualcosa di mio ma non ce l'ho mai Raccontami un po', io con lui ieri abbiamo parlato un po' del colore, delle tendenze prossime Secondo te quali saranno? Completamente naturale, soprattutto per l'inverno E si rifate, comunque mi ha raccontato che ritornerà anche un po' tutto proprio le dimensioni dell'unghia Sì, assolutamente sì E per quanto quindi anche riguarda il colore mi dici... Piedi? Sì Naturali, completamente naturali Quindi insomma fate felice me Io sono proprio da unghie naturali anche per il colore Evita di filmare però che ho la scarpa bassa perché io faccio vedere a tutti che io sto con i tacchi da 16 No, infatti ha i tacchi altissimi Raccontatemi qualcosa, non so... Ho preso un cagnolino nuovo, è fantastico, si chiama Woda, è un bull terrier, mi riconosco nella razza, tranne il profilo E quanto ha? Quattro mesi e mezzo E si chiama? Woda Woda vuol dire... Woda e nelle lingue dell'est Woda vuol dire acqua Però a me piacciono tanto i Litfiba, ti ricordi la canzone Woda Woda? Ah, sì E lei si chiama Woda Che da me in dialetto Woda si dice vuoto, vuol dire vuoto Vabbè, dopo questa li ringraziamo Veneto Le Vod, vuol dire è vuoto Vabbè, dopo queste perle, grazie No, no, che perle, io sto sempre cercando il fidanzato Cerco un uomo di peso, bello cicciottino Un orsetto, un orsetto Max è troppo bagro per me Se quest'anno mi va di fortuna Se non quest'anno, noi l'anno prossimo saremo ancora qui Quindi lei la trovate sempre qua Se venite domani siamo qui Vediamo il fidanzato Grazie, ciao Ciao